La possibilità del perdono è davvero aperta a tutti, anzi è spalancata come la più grande delle porte sante, perché coincide con il cuore stesso del Padre, che ama e attende tutti i suoi figli. Con queste parole Papa Francesco ha accolto i partecipanti al corso promosso dalla penitenziaria apostolica. Ribadendo l'importanza di un'adeguata e aggiornata preparazione per amministrare bene il sacramento della riconciliazione, il Pontefice ha rimarcato che un confessore, egli stesso peccatore, dovrebbe essere uno strumento della misericordia di Dio, un canale di gioia, in modo che il fedele, dopo aver ricevuto il perdono, non si senta più oppresso dalle colpe, ma possa gustare l'opera di Dio che lo ha liberato. Ogni fedele ha proseguito, deve poter fare l'esperienza dell'amore del Padre, un amore che non delude mai, e sperimentarne la misericordia. Ogni assoluzione, ha aggiunto Papa Bergoglio, è in un certo modo un giubileo del cuore, che rallegra non solo il fedele e la Chiesa, ma soprattutto Dio stesso. Cosa faccio se mi trovo in difficoltà e non posso dare la soluzione? Cosa si deve fare? Ma prima di tutto cercare se c'è una strada, tante volte si trova. Secondo, non legarsi soltanto al linguaggio parlato, ma anche al linguaggio dei gesti. C'è gente che non può parlare, e col gesto dicono il pentimento, il dolore. E terzo, se non può dare la soluzione, parlare come padre. Ma senti, tu, per questo io non ti posso, ma posso assicurarti che Dio ti ama, che Dio ti aspetta. Preghiamo insieme alla Madonna, perché ti custodisca. E vieni, torni, perché io ti aspetterò come ti aspetta Dio, e dare la benedizione. Così questa persona esce dal confessionale, ho trovato un padre e non mi ha bastonato.